Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 7 aprile, sono le 9.44 e siamo dal vivo sui mercati. La tentazione di andare short dopo un movimento come questo, in rottura di questa candela, è stata molto forte. E mentre riflettevo nel gruppo premium sul da farsi perché si sta palesando in entrambi i casi, vi racconto il ragionamento che abbiamo fatto che è molto semplice. Siamo andati a calcolare, perché l'evoluta lavora solo in termini di tempo, non di candele giornaliere o altro, per cui vede con molta più precisione che cosa succede sui mercati. Abbiamo visto che da questo massimo a questo massimo abbiamo 24 bar, ovvero la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura del T inverso. Chiuso un T inverso, se da questo massimo ne volesse partire un altro, avremmo un'altra spinta molto forte verso il basso. Peraltro, se l'ipotesi fosse confermata, della partenza di un nuovo T-3 e anche un T settimanale, avremmo 1, 2, 3, saremmo soltanto a un terzo, anzi, a tre giorni sul minimo 6 di discesa. Qui però sul MIB manca una delle due condizioni per dire che da qui è partito un T settimanale, per cui siamo prudenti per due motivi, sia questa che anche quella per cui in realtà si potrebbe tranquillamente continuare a lateralizzare per altre due, tre candele, oltre a quelle che abbiamo già sotto questo minimo, e poi ritornare su e ci vincoleremmo a salire, a rialzo. Per cui, tutte le considerazioni fatte, è meglio spostarle a dopo le 10.01, come facciamo sempre, per sicurezza. Su DAX, peraltro, la situazione è analoga. Abbiamo, ovvero, da questo massimo a tornare indietro, 20-21 barre, che potrebbero dire, in termini tecnici, chiusura di T inverso, con eventuale partenza di nuovo T inverso, di un secondo settimanale inverso ciclofaturo, che spingerebbe prima verso il basso, che è alto. Qui per l'altro abbiamo anche una potenziale chiusura di un lap up. Ma, ribadisco, solo sul DAX possiamo dire che il T settimanale si è vincolato a ribasso. Perché abbiamo avuto la violazione dello swing di competenza, non su MIB. Quindi, non esprimo opinioni, come di consueto, ma mi baso su quelli che sono i fatti. Quindi, per oggi, che cosa facciamo? Innanzitutto aspettiamo che arrivi le 10.01 e vediamo come si comporta il mercato. Successivamente, teniamo come swing di riferimento per il massimo, ovviamente questo 24.692, per il quale, per cui, voglio dire, se ci tornassimo sopra in breve tempo, dopo però una condizione sufficiente per far partire un nuovo T-3 inverso, e attenzione che lo swing qui non c'è vicino, non è molto vicino, potremmo andare long, viceversa vedremo se hanno voglia di continuare a scendere. Anche perché, ribadisco, qui manca una delle due condizioni. Mentre invece su DAX, che cosa facciamo? Su DAX, è vero, ci teniamo come massimo questo di riferimento, quindi può essere lo swing a 14.233 punti. Ma, partiamo dall'inverso, qui siamo ancora a 38 barre, non è stato violato nessuno swing di minimo, si potrebbe continuare a risalire anche senza aspettare almeno un 5 barre sotto un massimo, salire anche sopra, arrivare all'11.25 e poi ritornare a scendere. Per cui, su DAX dobbiamo aspettare di più. Ovvio che l'alto punto di riferimento sia lo swing a 14.027. Per cui, questo è il programma per oggi, con questa certezza, e con un'altra cosa interessante, il fatto che sul DAX abbiamo un vantaggio competitivo di tanti tipi rispetto al MIB. Questo in primis, sappiamo già di avere un settimanale vincolato ribasso e che è arrivato soltanto a, scusate, qui è 4, e che è arrivato soltanto all'inizio del quarto T-3. E come minimo ne dura 6, quindi shorteremo i top qui su DAX. Se ci saranno le condizioni, con gli swing corretti e tutto il resto, perché ci sono ancora utenti del canale che non hanno capito che senza uno swing noi non ci muoviamo. Cioè, anche se la previsione è di una discesa, perché si deve avere una previsione, ma poi non viene violato uno swing di minimo, noi non ci muoviamo. Eventualmente, se viene violato poi uno swing di massimo, noi ci muoviamo in rialzo. Quindi, ricordatevi che l'analisi evoluta è fenomenale per il fatto che si adatta iper rapidamente ai movimenti di giornata, grazie agli swing ai volumi al tempo, anche se l'analisi fosse temporaneamente errata. Ma non interessa guadagnare o fare una bella squadratura ciclica? Perché io so che cosa interessa a me e penso che sia la stessa cosa che interessa a voi. Vi ringrazio per il vostro tempo, se l'analisi vi è piaciuta, mettete un bel like e buona giornata a tutti. Arrivederci! Grazie!